La coscienza. Vorrei sapere che questa coscienza è risposta e disintodimena. Sto un rispondito con la conoscenza. Spiegatemi cosa significa. Ho risposto come in scuola, che ha fatto in scuola all'università. Ma ha detto, figlio mio, questa parola si usava, sì, ma tanto che non so. Ora la coscienza si è disintegrata. Poco si rimasta di grinta. Questa parola resta attaccata e campagna con onore e dignità. Mostra la signora Votra, il peggato, la rambiale, queste cose che sono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.